Ho 32 anni, faccio fotografia professionistica da circa 12 anni e ho deciso di andare via perché dopo tante esperienze che ho fatto qui in Italia, anche molto importanti, non sono riuscito a trovare poi le motivazioni giuste per rimanere. A Berlino sto scoprendo invece che attraverso il lavoro, la meritocrazia e la professionalità c'è la possibilità di riuscire ad andare avanti. Sono stato innanzitutto il primo fotoreporter ad entrare nella zona rossa dell'Aquila, due mesi dopo la tragedia ha colpito la città, sono riuscito a raccontare effettivamente il silenzio che imperava in città. Questo lavoro è stato pubblicato nei più importanti giornali italiani e un anno dopo attraverso la provincia di Roma sono riuscito a fare una mostra personale molto importante. Purtroppo non sono riuscito anche attraverso questa strada a realizzarmi. All'epoca lavoravo in un albergo di notte, quindi comunque facevo una vita abbastanza disagiata per certi versi e mi sono reso conto col tempo che guardandomi intorno che non era quello che volevo. A Berlino adesso sono team leader del gruppo italiano in un call center tecnico di fotografia, quindi in questo caso sono riuscito anche con un po' di fortuna a trovare comunque un lavoro che è inerente a quello che io faccio, insomma la mia passione. Diciamo che la cosa importante è che nell'arco di un anno e mezzo mi hanno dato la possibilità di crescere all'interno dell'azienda, proprio perché comunque esiste la meritocrazia, perché comunque l'onestà e il lavoro duro paga. Ho firmato due contratti a tempo determinato all'inizio, la legge tedesca prevede questo ITER, in realtà il contratto a tempo indeterminato me l'hanno fatto un anno e mezzo prima della scadenza reale, quindi è molto gratificante per me e grazie a questo io adesso a settembre avrò la possibilità di partire per la Jugoslavia e fare un lavoro fotografico sulla ricostruzione di Sarajevo, quindi sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Nonostante io comunque abbia trovato la mia dimensione in un paese straniero, questo non significa che lasciare un paese come il nostro soprattutto, insomma come il mio, sia una cosa facile, in realtà non lo è per niente. Se pensiamo soprattutto per un artista a quello che può offrire un paese come questo, l'idea di doverlo comunque abbandonare dà molta tristezza.